Signore e signori, cari amici, ben tornati alla società in disposizione del Paglio dei Castelli della città di Castiglione-Lona. Prima di qui è parte finale di questo progroso previso che ha visto prima di fare il primo recorso dei scelmi. Prima di qui è parte finale di questo progroso previso che ha visto prima di fare il Paglio dei Castelli della città di Castelli della città. Un prego da Ale, un signore di Cat穴, non zie l'Italia. Il Paglio dei Castelli della città di Castelli della città di Castelli della città è di fare il Torneo del Leone d'Argetto. che ha visto sfidarsi il combattimento di altissimi uomini d'arte per l'associazione I Magli d'Acciaio. I valori combattenti dell'associazione I Magli d'Acciaio si sono sfidati con vari tipi di armi senza esposizione di culpi ma con sempre nel pieno rispetto delle tecniche di combattimento in armatura di tutto l'associazione I Magli d'Acciaio si è verbo quindi si è verbo I Magli d'Acciaio si sono e connessione Uri Revarda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al terzo posto, dall'Italia, il Presidente dei Mani da Siaia, il Presidente dei Mani da Siaia, il Presidente dei Mani da Siaia. Il primo posto, dall'Italia, il Presidente dei Mani da Siaia. Il Presidente dei Mani da Siaia, il Presidente dei Mani da Siaia. Signore e signori, ringraziamo e facciamo un altro bellissimo applauso alla sala d'arte di Mani Sassano. Grazie ragazzi. Grazie. 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 Grazie.